Piano piano è venuto questo sapere che c'erano questi campi di sterminio. All'inizio non si pensava affatto che questi dovevano tutti morire. Poi piano piano chi è sopravvissuto ha capito che non vedrà mai i propri genitori. Non so chi non l'ha passato, non puoi immaginare. E montavo a cavallo prima di andare a lavoro, mi lasciavo all'alba per andare a montare a cavallo e poi andavo a lavorare. Non posso portarla nel box io, non va, non si alza. Non si alza, non si vuole alzare. Hanno portato via tutti i maschi ebrei fra i tredici e vent'anni. Sono spariti. Non potrei vivere in un altro paese. Gli italiani sono tolleranti. Mi hanno salvato la vita. La bellezza può essere qualcosa che tu neanche non vedi. Piccoli gesti. Piccoli gesti. Piccoli gesti.